Vi state divertendo a scattare delle bellissime fotografie ma volete tirare fuori il massimo dai vostri file e quindi andare a svilupparli correttamente in post produzione? Seguite questo video fino alla fine perché vado a farvi vedere quelli che sono i passaggi chiave per uno sviluppo digitale base con un software come Adobe Lightroom. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Oggi vi mostro i passaggi principali che si devono seguire per uno sviluppo digitale molto molto semplice all'interno di Lightroom, software più utilizzato per lo sviluppo digitale, un software a pagamento, quindi un software con abbonamento il che può essere una cosa un po' antipatica, software che io utilizzo ormai da tanti anni e con cui mi sono sempre trovato bene. Il modulo di sviluppo è fatto molto bene anche se ha qualche piccola pecca che però potremo affrontare in un altro video se no questo diventa troppo lungo. A questo proposito, visto che ci saranno altri video, io invito tutti quelli che non l'avessero ancora fatto a iscriversi subito al canale per rimanere aggiornati. Date una possibilità a questi contenuti che tanto è gratis. A questo punto io direi saltiamo all'interno del mio computer e andiamo a vedere come funziona questo software per lo sviluppo digitale delle nostre fotografie. Molto bene, eccoci qui all'interno di Lightroom. Ovviamente abbiamo già importato tre immagini su cui andremo a fare qualche piccola modifica. Andiamo innanzitutto a vedere che cosa possiamo fare per quanto riguarda i metadati. Qui, come potete vedere, io ho già un'impostazione personalizzata che imposta il mio copyright. Quindi vado a selezionare le immagini, vado a dirgli di impostare questi metadati su tutte le immagini e vedete che automaticamente ha inserito il mio copyright sulle foto. Questo è importante perché così nessuno ve le può rubare. Apriamo il modulo di sviluppo, vero e proprio, e qui ci ritroviamo con la nostra fotografia. Vedete che cambia appena la importiamo perché Lightroom imposta un profilo in automatico. E quindi dov'è che sono i profili? Eccoli qua. Andiamo a vedere che ha impostato Adobe Color. Questo può andarci bene, ma noi qui possiamo scegliere tanti profili. Il profilo è, secondo me, la prima cosa che dobbiamo impostare. Questo è camera standard ed è più simile a come la macchina vedeva realmente l'immagine. Qui abbiamo tutta una serie di profili differenti. È importante impostare il profilo perché il profilo apporta già delle modifiche che però non sono distruttive. Quindi noi possiamo fare delle modifiche avvicinandoci al nostro risultato finale senza rovinare la nostra immagine. Adobe Standard, devo dirvi, è quello che uso più spesso perché secondo me è molto bilanciato ed ha un risultato quasi sempre ottimale e già vicino alla resa finale che vogliamo. Di solito io ballo tra Adobe Standard e Camera Standard. Se sto facendo paesaggio poi ci penso perché dipende dal risultato finale e da come rende per quella particolare immagine. Andiamo a vedere che cosa possiamo fare per i dettagli. E qui io vi dirò che uso il mio preset per andare a migliorare i dettagli. Qui sto usando il 1755 su una 80D quindi uso questo preset. I miei preset sono in free download e li trovate nel link in descrizione. Quindi potete metterli gratuitamente sul vostro computer e utilizzarli. Andiamo a zoomare un pochino e vediamo come si è comportato il preset. Dunque andiamo a vedere un prima e un dopo. Vedete che l'immagine è già migliorata solamente con l'applicazione del profilo. Abbiamo tolto un po' di giallino che era troppo e abbiamo migliorato un pelo la nitidezza. Adesso andiamo a vedere perché io qui potrei aumentarla un po' di più perché questo preset che ho fatto aumenta la nitidezza ma è un po' tenue. E andiamo a rimettere a posto la mascheratura che questa si sistema in base al tipo di immagine. E direi che per quanto riguarda questo primo passaggio abbiamo già fatto un miglioramento notevole. Ovviamente tanto sta nello scattare bene la foto. Se la foto è scattata bene poi modifiche piccole resistemano tutto. Andiamo sul modulo base che è quello più importante, quello su cui ci concentreremo prevalentemente oggi. Andiamo ad aprire il nostro istogramma e andiamo a aprire gli avvisi per i dettagli bruciati. Questi avvisi che cosa fanno? Vedete che nel momento in cui io vado a esporre in maniera sbagliata le alte luci bruciate si vedranno in rosso e le ombre troppo marcate si vedranno in blu. Ora io lo rimetto come era prima. Qui non abbiamo dettagli bruciati perché come detto questa immagine è esposta dannatamente bene. Quindi io posso andare a togliere un pochettino di luci e aprire un pochettino i bianchi e chiudere un pochettino i neri. Le solite cose che si fanno per regolare un pochettino il micro contrasto. Però sostanzialmente questa immagine potrebbe andare... vedete che viene fuori un po' di blu? Io rimango in una zona dove non ho perdita di dettaglio e vediamo un prima e un dopo. Sostanzialmente questa immagine andava già quasi bene così quindi le modifiche che dobbiamo fare sono veramente poche. Ora per quanto riguarda i dettagli io potrei aumentare la texture o aumentare la chiarezza ma come vedete queste sono cose che su un ritratto soprattutto di una fanciulla non si prestano particolarmente bene. Ne andrebbero meglio su un paesaggio o su qualcosa di un pochettino più grintoso. Possiamo anche andare ad aumentare vividezza o saturazione ma anche qui in questo caso secondo me non ce n'è assolutamente bisogno perché i colori vanno già bene così. Altre cose che possiamo fare... l'immagine secondo me sostanzialmente è già finita così perché c'erano veramente poche cose da fare. Una cosa che possiamo andare a controllare è di avere attivato le modifiche sull'obiettivo quindi abbiamo impostato il nostro obiettivo in maniera tale che il software si prende cura di rimuovere eventuali distorsioni o aberrazioni cromatiche. Possiamo andare a mettergli degli effetti quindi possiamo andare a mettere una vignettatura e vedete se io gli metto una vignettatura positiva non vado a scurire i bordi ma vado a schiarirli e vado eventualmente a schiarire avendo il risultato di concentrare l'attenzione sul mio soggetto al centro ulteriormente. È una cosa che possiamo fare come non fare perché lascia un po' il tempo che trova. Una volta che siamo soddisfatti del nostro risultato noi possiamo aprire la seconda immagine come vedete ne ho prese due dello stesso set. L'ho fatto di proposito perché quando noi abbiamo fatto le nostre modifiche su un'immagine possiamo cliccarla col tasto destro e possiamo andare su impostazioni di sviluppo e copia impostazioni. Qui possiamo scegliere quali copiare ma in questo caso io credo che le copierò tutte perché tanto sono poche modifiche. Posso andare sulla seconda immagine tasto destro impostazioni di sviluppo e posso dirgli incolla impostazioni ed ecco che ho copiato esattamente le modifiche che avevo fatto in precedenza su questa seconda foto. Posso copiare queste impostazioni su tutte le foto dello shooting in maniera tale che ho modificato solo la prima e poi ho applicato a cascata le stesse modifiche su tutte quante. E vedete che le foto sono con gli stessi colori e con gli stessi parametri e sono perfettamente pronte per essere esportate e inviate eventualmente al cliente. Bene ma ora andiamo a vedere una seconda immagine andiamo a vedere altre cose che si possono fare quindi torniamo nel modulo di sviluppo. Questo è un altro ritratto che però a differenza del primo è in una location completamente diversa con uno sfondo ambientato. Andiamo a dirgli automatico. Vedete questa è un'impostazione che in automatico mi imposta quelli che secondo lui sono i parametri migliori. Secondo me in questo caso non ci ha azzeccato. Andiamo a selezionarci un profilo e qui possiamo giocarci un po' perché qui ci sono più colori che entrano in gioco non solo l'incarnato o i colori degli abiti della modella. Quindi possiamo giocarci un po' possiamo andare come prima vedete senza portare fuori perdite di dettaglio però possiamo andare ad aumentare il contrasto localmente con questi fader che sono secondo me il cuore del modulo di sviluppo. La parte più importante è questa in questo caso in questo caso sì che potremmo dargli un po' di chiarezza non troppa perché se no si vede che è stato fatto. Dobbiamo cercare di avere un editing quanto più invisibile possibile secondo me. Andiamo a dargli sempre il mio preset per la nitidezza quindi a questo punto andiamo a vedere un prima e un dopo vedete che abbiamo già migliorato diversi aspetti. Adesso possiamo togliere questi questi alert per le perdite di dettaglio perché la parte di sviluppo per quanto riguarda luci ombre possiamo considerarla conclusa. Cos'altro possiamo fare possiamo andare a allora controlliamo sempre di aver messo le spunte su questi parametri possiamo andare a giocare con il bilanciamento del bianco. Vedete che qui abbiamo una serie di parametri tra cui l'automatico che quindi ci pensa lui e vedete che è diverso non è detto che sia meglio o peggio però secondo me vale la pena giocarci con questi parametri perché potremmo scoprire che qualcuna di queste impostazioni tira fuori qualcosa nella nostra immagine che prima non vedevamo potrebbe dargli nuova vita mostrandoci dei colori che risultano migliori. In questo caso secondo me è troppo giallo andiamo a provare qualcos'altro ancora più giallo quindi qui secondo me assolutamente no sembra una foto vintage così andiamo a vedere se c'è qualcosa di meglio ma probabilmente la cosa migliore potrebbe essere lasciare originale e giocarsela a mano perché qui possiamo andare a intervenire sulla temperatura quindi più blu o più gialla oppure sulla tinta quindi più magenta o più verde. E in questo caso possiamo veramente tirare fuori qualcosa di personale c'è un'altra possibilità noi possiamo prendere il contagocce e andare a selezionare qualcosa che secondo noi è perfettamente grigio. In questo modo lui ci seleziona il parametro che secondo lui è giusto e in questo caso secondo me c'è azzecca perché questo parametro a me sembra corretto. In realtà molti dei parametri che abbiamo visto oggi andavano bene ora spostiamoci su quest'altra immagine perché qui andremo a vedere qualcosa di diverso andiamo a vedere che cosa succede se gli diciamo automatico e boom vedete che cosa succede su un'immagine più classica con un cielo una sorta di paesaggio la modalità automatica di Lightroom funziona molto meglio perché probabilmente capisce meglio con che tipo di scena abbiamo a che fare. Io vado a togliergli quel contrasto che non voglio andiamo a mettere un altro profilo in questo caso adobe paesaggio potrebbe essere un'ottima cosa. Andiamo a vedere camera standard vedete che qui abbiamo anche un profilo lineare per questa macchina che è un profilo che minimizza i contrasti in maniera tale da poterli recuperare in post però è un profilo molto difficile da usare mi richiede più fatica dopo. Quindi io credo che andrò a utilizzare uno dei profili già pronti in particolare paesaggio di adobe secondo me è quello che rende meglio perché adobe si può dire quel che si vuole sono ogni tanto sono antipatici però sono anche bravi. Andiamo a fare due micro regolazioni andiamo a vedere se abbiamo perdita di dettaglio in giro chiaramente avremo un po' di perdita di dettaglio su certe alte luci perché qui eravamo sotto il sole a picco e abbiamo forse un po' di perdita nei certi neri ma direi assolutamente tollerabile. A questo punto andiamo ad aprire una cosa che prima non avevamo fatto che è questo pannello del mixer colori. Ora noi qui andiamo a selezionare tutti così vediamo bene tutto quanto vi faccio vedere quello che faccio di solito quando mi trovo a dover post produrre una fotografia di paesaggio. Allora con questo selettore io posso andare ad agire solamente sul colore che vado a puntare quindi in questo caso sto agendo solamente sulla saturazione e sulla luminanza del blu quindi tendenzialmente del cielo e vado a migliorare questo parametro dopodiché posso invece andare ad agire sulla tinta e qui seleziono per esempio il verde e vedete che posso cambiare selettivamente il colore solamente del verde. Vi faccio questi esempi ma ovviamente questa cosa si può fare su tutti i colori per tutti quanti i parametri. Andiamo a vedere un prima e un dopo e vedete che la foto è cambiata parecchio abbiamo tirato fuori dei dettagli che a un primo esame non si vedevano. Andiamo a vedere il pannello di color grading qui bisogna stare molto leggeri con le modifiche se no viene fuori una porcata e si fanno sempre le stesse cose qui secondo me. Andiamo a scaldare un po' le alte luci a raffreddare un po' le ombre un effetto minimo che però di solito porta fuori dei colori molto gradevoli. Globalmente la nostra immagine è già migliorata parecchio qui possiamo andare a non gli ho dato il preset per la nitidezza adesso glielo do e pum vedete che cambia il mio il mio aspetto dell'immagine perché il mio preset della nitidezza attiva automaticamente anche i parametri di correzione automatica dell'obiettivo. Qui andiamo a dargli un minimo di riduzione. Ah no qui sto usando l'intelligenza artificiale no come non detto questo non lo voglio usare volevo usare questo ecco andiamo a dargli un minimo di mascheratura per rimuovere dettagli superflui dove non li vogliamo. E direi che possiamo passare qui come vedete è già stato attivato in automatico possiamo passare a questo punto possiamo aumentare un pochino la saturazione e la vividezza perché con le modifiche che ho fatto se ne è persa un pochino. Andiamo a dargli anche un po' di chiarezza e direi che l'immagine potrebbe già essere pronta così come vedete questa è una foto automotive sostanzialmente avevamo le nostre due auto messe lì davanti al castello di peschiera borromeo mi sembra. Ci sono un paio di cose in più che possiamo andare a fare che sono trasformazione ora trasformazione serve per modificare la prospettiva qui abbiamo tutte delle funzioni automatiche e quindi lui dovrebbe automaticamente capire che cosa fare ma personalmente io preferisco farmelo a mano la maggior parte delle volte perché voglio decidere io quali linee deve raddrizzare perché lui cerca di capire che cosa raddrizzare però qui ci sono alberi cose storte e quindi magari non lo capirebbe. Ok così è dritta però vedete che ci sono dei triangoli bianchi noi non li vogliamo per cui adesso vado a dirgli che non voglio quei triangoli bianchi quindi vado a dirgli di riempirmi l'immagine ma mi sta tagliando le mie automobili. Allora vado con questo parametro a spostare il quadro in maniera tale da metterlo esattamente come lo voglio io e così abbiamo l'immagine perfettamente dritta con tutti i miei dettagli che si vedono. A questo punto ci sono un altro paio di cose che potremmo andare a fare perché l'immagine non è finita così potrebbe servire un passaggio in Photoshop ma adesso proviamo a rimuovere questo cestino della spazzatura con sistemi di rimozione integrati all'interno di Lightroom. Come potete vedere ci deve pensare un po' io in questo momento sto usando la funzione gomma che quindi dovrebbe cancellare quello che io ho evidenziato. Questo è un sistema che probabilmente fa utilizzo di intelligenza artificiale vedete che ci ha provato c'è quasi riuscito vado a dirgli aggiorna nuovamente vediamo che cosa fa. Qui mi sta prendendo dentro un pezzo di panchina quindi non ha capito perfettamente che cosa io volevo in automatico non l'ha capito perfettamente vediamo se glielo ridico da capo magari facendo una selezione un po' più ampia perché spesso il problema è l'ampiezza della selezione se abbiamo tagliato a metà quello che vogliamo cancellare poi lui non capisce. Fatta la selezione gli diciamo di aggiornare nuovamente vediamo che cosa succede ci mette un po' chiaramente perché la stana lì da no niente lui mi va sempre a pescare la panchina perché è un'area che somiglia evidentemente però a me non va bene così quindi proviamo in un altro modo proviamo con il pennello correttivo il modo lo troviamo eh poi questa è una cosa che si può fare in Photoshop ma il modo lo troviamo ok lui qui mi sta ancora andando a pescare la panchina però qua io posso spostare il punto da cui sta clonando. e quindi vado a spostarlo un po' più lontano dalla panchina e boom problema risolto perché così il mio cestino non si vede più la panchina la lasciamo ma il cestino era proprio bruttino quindi l'abbiamo giustamente rimosso. A questo punto andiamo a vedere un prima e un dopo vedete che le modifiche sono notevoli ci sono tante cose che abbiamo cambiato e migliorato questo è lo sviluppo base che noi possiamo fare all'interno del modulo come di un software come Lightroom sono proprio le cose base le cose che facciamo per mettere in bolla la nostra foto prima di passare eventualmente a cose più complicate. Poi una volta che abbiamo fatto tutti questi passaggi possiamo vedere se ci sono problemi da risolvere o se ci sono cose eventualmente per cui dobbiamo esportare l'immagine e finire di lavorarla in Photoshop o in altri software. Questo è secondo me il metodo più corretto per la maggior parte delle fotografie. Poi ci sono casi particolari dove abbiamo fotografie strane come per esempio la fotografia infrared per cui servono dei trattamenti particolari. Questo però secondo me è il procedimento da seguire nella maggior parte dei casi quindi spero che questo contenuto sia stato di aiuto per molti che mi avevano chiesto come fare come cominciare a mettere le mani in un software di post produzione per cominciare a migliorare i nostri risultati e poi via via migliorare e diventare sempre più bravi. Spero che questo contenuto sia stato di aiuto. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi aggiornamenti anche in base alle richieste che mi farete. Vi ricordo anche che io spesso e volentieri rispondo ai vostri commenti con degli shorts verticali quindi se vi iscrivete non andate a perdervi questi video di approfondimento. Signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti!